Che cosa hanno in comune Tom Ford, Claudio Baglioni, Samuel L. Jackson, Ipink Floyd e Virgil Abloh? Hanno tutti, almeno per qualche anno, studiato Architettura. Se studi Architettura o hai da poco raggiunto il traguardo della laurea e senti un certo spaesamento verso il futuro, accomodati, sei in ottima compagnia. Probabilmente vi stupirà sapere che la maggior parte degli studenti di Architettura, si stima ben più della metà, non svolgerà mai la professione di architetto. Prima ancora di chiederci perché sia così, vediamo alcune delle strade che possono essere percorse come alternative credibili al mestiere di Architetto. Piccola precisazione, diamo per scontato che in questo video escluderemo e non parleremo di quelle professioni che non hanno nulla a che fare con gli studi in Architettura. Certo che si può arrivare a essere anche famosissimi YouTuber dopo una laurea in Architettura, ma sono quei cambi di vita imprevisti e imprevedibili e sarebbe impossibile elencarli tutti. Se qualcuno di voi conosce alcune di queste storie pazzesche, le scriva nei commenti e vediamo qual è quella più incredibile. Dall'architettura spesso ci si avvicina al mondo del design. Design che è una parola molto generica e contiene tantissime professioni, però diciamo che dall'architettura spesso si finisce a fare progettazione di interni, quindi interior design, o anche progettazione di prodotti e oggetti, in questo caso si chiama product design. Per chi invece sviluppa interesse nell'ambito informatico e digitale, le possibilità che si aprono sono gigantesche. BIM, visualizzazione architettonica, animazione 3D, sono solo alcuni dei percorsi che si possono intraprendere dopo una laurea di architettura verso il mondo digitale. In assoluto secondo me questo settore, diciamo quello dell'informatica e della tecnologia, è quello che per i laureati in architettura offre maggiori possibilità e credo che in futuro sarà sempre più così. In alternativa, dall'architettura ci si può specializzare nel restauro, quindi tutto ciò che è l'intervento sugli edifici storici e in Italia sappiamo quanto è importante il nostro patrimonio storico e artistico. Guardando il mondo a una scala diversa invece, c'è chi fa dell'urbanistica un vero e proprio mestiere, progettando pezzi di città ma anche solo parchi o giardini. Tra il piccolo oggetto e la vasta città, molti architetti si collocano invece a metà, cioè nel mondo delle costruzioni. Non come progettisti, però magari per un'impresa di costruzione, seguendo quindi unicamente i cantieri. Più lontano da chi crea, ma molto più vicino a chi realizza. E in questo senso le possibilità che si aprono possono riguardare certo gli edifici, ma anche le strade e le infrastrutture, che sono due campi molto interessanti. Altri, invece, si appassionano al processo di vendita degli edifici. Per loro si aprono le porte al cosetto real estate, cioè al mercato immobiliare, in cui trovano posto tantissimi laureati in architettura, come operatori del settore o agenti immobiliari. In un mondo del tutto diverso da questo, dall'architettura si può anche arrivare all'editoria, quindi giornali, libri, riviste. Altri, invece, si avvicinano al mondo dell'istruzione, diventando insegnanti o perseguendo la strada della ricerca universitaria, quindi un percorso che passa necessariamente attraverso un dottorato, che molte volte apre le porte dell'università, quindi si finisce comunque a insegnare, però in contesti e in situazioni diverse. Chi, invece, ama l'arte ha comunque gli strumenti per entrare in questo mondo. Che si tratti di gallerie d'arte, di mostre, esposizioni o anche di fotografia, sono in tanti i laureati di architettura che si trovano in questo settore. Altre due vie particolari, ma che non sottovaluterei, sono quella del model making, cioè la creazione di modelli e di plastici per l'architettura, e la scenografia, quindi specializzarsi in quelle che sono scenografie per il cinema, per il teatro e per le serie tv. Per chiudere, non dimenticherei anche la via dell'imprenditoria e delle start-up, e di tutte le iniziative professionali che possono nascere dall'intraprendenza personale. Rispetto alla professione di architetto, tutti questi sono dei possibili cambi di direzione. Alcune volte si finisce più vicini all'architettura intesa in senso tradizionale, altre volte più lontani. A volte sono cambiamenti improvvisi, che ci investono come un uragano, altre volte sono processi lenti e graduali, che seguendo una corrente lenta e inesorabile ci spostano da dove siamo. E come abbiamo visto poco fa, si può finire anche lontanissimo rispetto al punto di partenza iniziale. Si tratta letteralmente di mestieri molto diversi tra di loro, così diversi che viene spontaneo a chiedersi ma com'è possibile tutto questo? La spiegazione, secondo me, risiede nelle università di architettura. Una volta usciti dalla facoltà di architettura si sa un po' di tutto, o meglio, negli anni di studi si acquisiscono diverse skills, diverse capacità, che, anche se non sono mai molto approfondite, possono essere spese in tantissimi ambiti. Di questo abbiamo parlato in diversi altri video, ma se dovesse dirlo in altre parole, ad architettura si impara, più o meno direttamente, tutto quello che serve per le professioni diverse che ho elencato prima, dalla sensibilità per le questioni spaziali, alla conoscenza tecnico-ingegneristiche, dalla capacità di scrittura e dialogo, all'uso di tantissimi software diversi. Architettura, lo sappiamo, è una facoltà multidisciplinare, e questo in parte è in controtendenza con l'iperspecializzazione di ogni ambito. Eppure, secondo me, anche se ci sono delle criticità di una formazione così generica, essere a contatto con così tante materie diverse può essere un grande vantaggio, soprattutto se si impara come utilizzarlo bene. Spesso si finisce di studiare l'architettura senza nemmeno essere consapevoli della quantità di cose che si è in grado di fare. Per me è probabilmente stato così, e sono pronto a scommettere che forse se ci pensi bene, è così anche per te. Allo stesso modo, però, sarebbe ingenuo pensare di avere, non appena uscite dalle università, tutte le conoscenze e tutte le capacità per affrontare le professioni alternative che abbiamo visto. Infatti, non è così. Non tutte le professioni alternative al mestiere di architetto sono ugualmente facili da intraprendere una volta terminati gli studi di architettura. Come immaginerete, ci sono mestieri che hanno più compatibilità con gli studi in architettura e altri meno. È come se alcune professioni gravitassero su un'orbita più ristretta, mentre altre sono invece in pianeti decisamente più lontani. Più è lontano il lavoro che si sta cercando di raggiungere, più tempo ci vorrà per farlo, è come una missione spaziale. Però, devo dire, si può fare. Se si riesce ad andare oltre al binomio studio-architettura e quindi farò l'architetto, si scopre che le possibilità sono moltissime e gli scenari che si aprono, secondo me, sono davvero inaspettati. È come se la facoltà di architettura ci lasciasse in mano diversi germogli. Una volta laureati, sta a noi decidere quanti piantare e soprattutto quali. La scelta non è semplice e ci porta a una domanda fondamentale che io mi sono fatto tante volte e continuo a farmi, e cioè, come faccio a trovare la mia strada? Beh, amici e amiche, non lo so. Anche per me è una ricerca continua. A tal proposito, vi dico che ho scoperto recentemente una parola giapponese che riassume molto bene questo concetto. La parola è ikigai, unione di iki, che vuol dire vivere, e gai, che significa ragione. Ikigai è quindi la nostra ragione di vita, lo scopo dell'esistenza umana. In realtà è un termine molto più complesso di quello che sembra e vi dirò di più, inaspettatamente ha molto a che fare con l'architettura. Potremmo dire che Ikigai è uno spazio, un piccolo e preziosissimo luogo che si trova all'incrocio di quattro aree fondamentali, quello in cui sei bravo, quello che ami, quello di cui il mondo ha bisogno e quello per cui puoi essere pagato. Nello spazio di intersezione tra queste cose, secondo la filosofia giapponese, si trova il nostro motivo di vita, proprio tra passione, missione, professione e vocazione. Ci sono molti modi per riuscire a identificare il nostro Ikigai e magari ne parleremo un'altra volta. Il concetto è comunque molto importante perché trovare il proprio Ikigai probabilmente significa vivere una vita più piena e appagante. La ricerca dell'Ikigai è complessa, richiede esercizio e introspezione, ma può aiutare tanto a distinguere cosa ci piace, in cosa siamo bravi, di cosa c'è bisogno e per cosa potremmo essere pagati. Questo è solo uno dei vari strumenti che possono essere utili per trovare la propria strada professionale e penso che sia molto efficace nel caso dell'architettura anche visto quante possibilità ci si aprono davanti terminati gli studi universitari. In architettura ci sono dei momenti che sono meglio di altri per capire che strada prendere. Uno di questi è quello tra la laurea triennale e la laurea magistrale. Uno dei vantaggi del percorso a 3 più 2, quindi 3 anni di triennale e 2 anni di specialistica, è che c'è spesso un periodo di tempo fra i due percorsi di studi in cui potrebbe essere l'occasione buona per capire davvero che strada prendere e quindi indirizzarsi verso un percorso diverso alla specialistica. Fare esperienza in ambiti diversi in generale è un ottimo modo per capire che cosa ci piace e secondo me prima ci buttiamo, prima arriveremo a capire qual è lo scenario giusto per noi. La nostra generazione ha una fortuna che secondo me al tempo stesso è una condanna, e cioè l'eccesso di scelta. Per questo motivo il rischio di perdere si è alto. Abbiamo visto poco fa quante professioni possono essere svolte a partire dagli studi in architettura e secondo me probabilmente mi sono anche dimenticato qualcosa, quindi se voi avete in mente qualche professione alternativa che può essere svolta di cui non abbiamo ancora parlato, scrivetemelo qui nei commenti, vediamo di radunarle un po' tutte. Secondo me alla fine l'aspetto che ci deve guidare ed è quello che io cerco di utilizzare come mia guida in tutte le scelte che faccio è la progettualità. Se ci pensate, essere progettisti alla fine è quello che veramente ci insegnano all'università. Essere in grado di avere un'idea e saperla sviluppare dal punto zero fino alla realizzazione finale. Questo non è una cosa da dare per scontato se ci pensate, questo ha un valore. La progettualità secondo me è il vero passepartout, è la chiave che potenzialmente ci apre tutte le porte. Se l'approccio è quello del progettista, alla fine poco conta se si sta progettando un edificio, un software, un oggetto, un progetto di interni o un'iniziativa imprenditoriale. E aggiungo anche che il nostro progetto più importante dovremmo essere noi. Se siamo progettisti dovremmo esserlo in qualche modo anche delle nostre vite, sapendo che non tutto va come speriamo, questo è ovvio, però la progettualità è ciò che ci guida, è il nostro faro nella notte. Io mi impegno in questo ogni giorno e cerco di rendere tutto quello che mi piace, che mi interessa un progetto. Questo video è un progetto, un progetto che in questo caso ho realizzato a quattro mani grazie all'aiuto preziosissimo di Giovanni, uno studente di architettura ormai vicino alla laurea, molto molto in gamba, che mi ha dato una grandissima mano a fissare queste idee. Grazie Giovanni. Non voglio però che questo video diventi troppo motivazionale perché non è l'idea con cui l'ho scritto. Ci tenevo però a farvi vedere quante cose si possono fare a partire da un percorso di studi che sembra abbastanza ben indirizzato e in realtà non lo è affatto. Spesso ci troviamo a fare i conti con le aspettative degli altri e la paura di fallire. Per la fretta, le difficoltà o la troppa pressione, spesso si rischia di dimenticarci quello che ci rende unici, quello che siamo bravi a fare, quello che ci fa sentire vivi. Siamo noi il nostro progetto più importante e personalmente non credo tanto a chi dice puoi diventare quello che vuoi. Non mi sembra realistico, non mi sembra credibile, anche perché se fosse così per esempio per me io adesso sarei un giocatore NBA o un pilota di MotoGP e in realtà non lo sono. Credo invece di più a chi dice diventa ciò che sei. Perché secondo me non è vero che possiamo diventare quello che vogliamo, però possiamo diventare chi siamo realmente. Per diventare chi siamo ovviamente dobbiamo conoscerci. Dobbiamo conoscerci molto bene e in questo per esempio il concetto di Ikigai può tornare utile ma ci sono anche tantissimi altri modi con cui ci possiamo conoscere. Diventa ciò che sei una frase molto più interessante secondo me, molto più bella anche. Perché non ci porta a inseguire un modello irraggiungibile e molto lontano da noi. Ci porta verso di noi in realtà, ci porta verso quello che siamo realmente. E io alla fine penso che tutti gli scenari che ci si aprono davanti dopo gli studi in architettura, tutte le possibilità che abbiamo visto e che possiamo intraprendere siano delle grandissime occasioni per avvicinarci a quello che siamo realmente. Insomma amici e amiche, il se vuoi puoi, il diventa quello che vuoi, secondo me non funziona. Crea solo frustrazione e dispiacere. Possiamo invece impegnarci a diventare quello che siamo, che forse non è solo importante, è l'unica cosa che conta. Grazie.